Lautaro signori come avete visto abbiamo sbagliato i conti prima avevamo detto 20 invece a 21 come Deulofeu incredibile Atalanta-Napoli Atalanta che è? Ando sta? Atalanta-Nona 23 punti può superare il Venezia che cazzo sto a dire che matematica conosco può andare a meno uno dal Venezia il Napoli piano piano può fare il colpaccio e andare sotto alla Atalanta non succederà mai però vabbè Aro vabbè una bella scelta Atalanta-Napoli Atalanta è del Atalanta è del legno Muriel dal primo minuto e Zavada va punito è riservato l'Atalanta-Napoli e se rompe uno toccarsi forza ragazzi forza ragazzi tutti gli sguardi su questo giocatore Attrick per lui nell'ultima uscita rimanete sintonizzati sulle frequenze di EATV immagini che vi giungono in diretta dallo stadio dove sta per aderizio il match in programma oggi ben trovati amici da parte di Piero Gipardo e Lelle Dani pronti per il commento amici da casa è tutto pronto per questa super sfida della serie A partita che promette grandi emozioni queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente grazie ogni allaишa ci sia è poco sta aderita a come è social ok non ci vediamo questo cosa queste sono le scelte del tecnico di casa per il match di oggi tecnico che siamo pronti chi soia l'alanta va bene la perderemo anche questa muriel fuori si si sono severo oh si ma è una sorpresa ma merda merda era buono passiamo a giocare al Napoli ma che si è ripreso? ma che gli è successo? il ritorno di Mertens mette fiducia a questo Napoli che non punta alla Champions ma ben all'Europa League mancano diverse giornate ancora perché faccio giocare in questa stagione non l'involta teron occhio teron non puoi lasciargli questi spazi a teron che culo e ogni tanto pure a me tanto questa 2 a 0 3 a 2 me l'ho ricordato in un fallo ricordo e mannagli tutti prima del primo tempo possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato il gol bravo l'attaccante ha il coraggio di aver segnato 2 gol battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione non poteva far di più per evitare il gol hanno aperto le barcature con questo gol 1 a 0 deve vincere il Napoli ragazzi assolutamente buona per muriel muriel e scari fuori cazzapata errore clamoroso potevano essere a più 2 a questo punto me l'ha sottilato avversari che potrebbero approfittare del momento per rifarsi sotto intervento deciso avanza palla al piede si apriva e spazza via regalato Rosano numero se ne va occhio a merte per Ciruzzo Mertens buona per Zieliński 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 la didemiral questa questo replay del gol una ripartenza perfetta ne è scatolito una conclusione al volo secca precisa e la palla ha andato in gol hanno pareggiato dunque 1 a 1 Uriel fallo scegli il tocco corto buono l'appoggio di nocchi quello che vuole troller troller è un tiro potente ma calibrato davvero molto male e dai entrata decisa è la partita di The Ron non c'ho più parole per descriverlo Uriel la cota 16 dai così guarda se il problema di Atalanta era la zapata che l'ho sempre difeso ma entrerà pure il zapata che va bene anche seconda punta Uriel è una bestia e il dici ce deve uscire entrare in zapata e il dici e il dici e il dici ho detti tutti e il dici c'è e questa è la Razzano ogni volta che parte è un macello c'ha 93 di accelerazione sta merda si vabbè si vabbè che azione il Napoli quota 1 giro forse a 2 cosa avremo mai però guarda qui l'ha fatto a deboli lascia proprio scappare hanno trovato nuovamente il gol della parità la partita ancora molto da dire dispacco tutti dispacco occhio intervento brutto vediamo cosa decide l'arbitro intervento da giallo giallo decisione corretta Pier ora deve fare attenzione Fabian Ruiz palla riconquistata che cazzo fate forse facendo un errore dietro l'altro fate burra non era facile fare meglio in quelle condizioni era pressato questo gli ha impedito certo tutto incerto ora l'impossesso di palla ho detto ho detto 0 0 l'arbitro dice che può bastare 2 a 2 al termine di un è il momento è il momento è il momento non è il tempo che comincia col possesso Napoli che sta parlando la zappa costa Mario Rui rimessa a favore del Napoli puntuale qui il difensore nel recupero prova un pallone lungo bravo difesa scoperta ha spazio per andare occhio qui al contropiede pure ha il pallone del possibile vantaggio mamma mia che hai preso che hai preso che fatica con questa davanza contento per Napoli però ci vuole ben altro per impensierirlo un po' Demiral 10 può correre lungo la fascia Duvan porco il suo vero di nuovo saluto saluto Duvan perfetto davvero un ottimo Mertens quello ammirato nei primi 45 buon pallone filtrante azione sfuma alla regalata dal Napoli agli avversari bello la palla dentro l'attenzione Duvan niente non si lascia sorprendere un po' segnato va bello sassare recuperati zona pericolosa con il copino mano che finisce calcio di rigore l'asito non ho passato il tocco in area chi tira Muriel quanto sta Muriel andano la donazza possono riportarsi avanti qui la cristo dio cristo dio cristo il pubblico ci crede e continua incitare la loro squadra può ricevere la posizione tu noi Duvan il portiere dice di no buongiorno 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 mi piace tantissimo un gol più dell'avversario è questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete palla riconsegnata agli avversari eloquente il dato sul possesso palla no così è totalmente in equilibrio tra le due squadre che in effetti ci stanno facendo divertire con il loro atteggiamento spregiudicato cercano il gol attaccano concedono qualcosa dietro vediamo se reggerà questo equilibrio occasionissimo a pierre ci ha messo una pezza quel portiere piano che cazzo ti tiri le mine occhio alla ripartenza pericolosa buona qui la verticalizzazione prova al volo buona l'interfetto nel portiere che salva il risultato qui potevano andare sotto e pierre prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema oh 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 grande appuntamento in arrivo qui sui ATV una delle gare più attese della stagione mi aspetto un mezzo e passa la Grishton anno e mezzo sono diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento non si accontentano nel pareggio adesso vogliono vincere la partita attacco che sfuma merito del buon lavoro difensivo rischio bello non era per lui errore della circolazione la giurla vola Muriel vola Muriel hanno un'altra palla no Muriel pure tu mi hai tradito manco angolo che partita di merda arbitro manfischi guarda che culo prima si passava quella ma porco dio no inevitabile era inevitabile il pareggio anzi che eravamo persa 13-6 persa un cazzo